Allora, cominciamo dall'esercizio 1, scelgo la nota Sol Faccio il 2, cambio nota, faccio il La metto il Si, adesso faccio le pause 1, 1, 1, 1, 2, 3, vado a tre, vado a tre, vado a tre, vado a tre, vado a tre e metto il Si, adesso faccio le pause, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Volto pagina e questo è I'm going home. Allora qui c'è, ci sono sempre gli ottavi, si chiamano, stavolta però sono note diverse, almeno per la prima riga. Nella seconda invece sono a coppie uguali. Ok, possiamo chiudere con la sopra.